Un dolce goloso e genuino, con tanta frutta fresca racchiusa in un guscio gustoso di pasta frolla. È la crostata di fragole, perfetta da proporre agli ospiti a casa o agli amici durante le tipiche scampagnate primaverili. Si prepara in anticipo e delizia gli occhi il palato di adulti e bambini. Come si può resistere ad un dolce di un rosso così accattivante? Per realizzarlo consigliamo di scegliere con cura le fragole. Si tratta di un frutto delicato e facilmente deperibile, che è bene acquistare a chilometro zero da aziende che osservano le prassi dell'agricoltura biologica. Avremo così una maggiore garanzia di portare a tavola un prodotto perfettamente integro, naturale e dal sapore più intenso. Vediamo come preparare la crostata di fragole iniziando dalla frolla al burro. Gli ingredienti che ci occorrono sono 300 g di farina, 125 g di zucchero, 125 g di burro freddo, un uovo intero più un tuorlo, un cucchiaino di lievito per dolci, la buccia di un limone biologico e un pizzico di sale. Setacciate la farina all'interno di una ciotola capiente. Unite il burro e pizzicate con le dita per ottenere un composto sabbioso. A questo punto unite il lievito setacciato, un pizzico di sale, le uova, lo zucchero e la buccia grattugiata del limone. Lavorate velocemente con le mani per rendere omogeneo e liscio il vostro panetto di frolla. Avvolgetelo con della pellicola e fatelo riposare in frigorifero per mezz'ora. E adesso occupatevi del ripieno. Ecco cosa serve. 500 g di fragole biologiche pulite, 80 g di zucchero, 30 g di amido di mais, il succo di mezzo limone. Dopo aver lavato e asciugato le fragole, togliete ad ognuno il ciuffetto verde e tagliate a pezzetti. Unite lo zucchero, l'amido di mais setacciato e il succo filtrato del limone. Mescolate con cura. È il momento di riprendere la pasta frolla. Dividetela in due parti, la più grande sarà la base della crostata e la stenderete col mattarello ad uno spessore di mezzo centimetro. La porzione più piccola servirà invece per fare le classiche strisce. Sistemate il disco di frolla all'interno di una tortiera già imburrata. Versate il ripieno di fragole, livellate e posizionate in superficie le strisce ricavate dall'altro disco. Il vostro dolce è ora pronto per andare in forno. Preriscaldate in modalità statica a 190 gradi e cuocete la crostata per circa 45 minuti. Dovrà dorare e asciugare. L'unica cosa che resta da fare è pazientare prima dell'assaggio. La crostata di fragole fresche ha bisogno di raffreddarsi del tutto per essere tagliata agevolmente. Preparatela la sera prima per l'indomani, avrà modo di assestarsi e tutti i sapori si saranno armonizzati per regalare un risultato davvero soddisfacente. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo l'economia locale e rispetto l'ambiente. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.